Ma se è giornata, non c'è? Beh, se è lozzo... Avanti il prossimo! Ecco, un altro... Mamma mia... Ciao! Ciao! Hai uno show-in da farci vedere? Vai! Che è? Titanic, cioè? No, ehm... L'era grassiale, che è? No, questo... Tu chiedi la renna? Vabbè... Ci hai portato qualcosa? Va, facci vedere, dai! Sì Eh, che paura! Mamma mia... Bello! Che era? Un po' rigidina, eh? Ehm... No? Ti sembra un po'... Fredda Sciogliti un po', c'è qualcosa di... eh? Sì Un pochino più... Brava O bravo Che si deve fare, la musica... Ta 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 ta... Va bene! Ok! Eh... Va bene, va bene, va bene così! Grazie, lui, grazie! Eh... Senti... Non so... Per Cast Away... Per la serie... Lo stegista l'abbiamo trovato? Lo stegista... Lo stegista per le fotocopie... E non si sa se è stegista o... Va bene... Tanto... E senti... Allora, per la Cast Away non so bene se riusciamo a trovarti un ruolo adatto, ecco... Però... Ci sarebbe un'altra cosa, forse, più interessante per te, eh? Perché... Per iniziare! Per iniziare! Eh... La base, la base... Oddio! Te hai già fatto questo, eh? Due non l'hanno fatto, ci sarà un motivo! Però... Insomma, vediamo! Adesso vai di là e la ragazza ti dice magari cosa potresti fare, va bene? Dai! Grazie! Puoi andare? Grazie, sì sì, grazie, grazie! Con sto culo doveva? Non lo so... Ehi, 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 ehi! E il blu-ray che manco ci sa noi! Hai speso, eh, per far questo! Mazzate! Grazie! Ciao, grazie! Grazie! Grazie!